Mister Kundari, un esordio casalingo positivissimo per lo Sporting Sala Marcianise, 3-0 all'Isernia e si vede qualcosa di molto positivo. Sicuramente i ragazzi oggi hanno interpretato la gara nel modo migliore. C'è stato un momento dove veramente hanno sofferto, però hanno usato sempre la testa, cosa che abbiamo preparato bene in settimana. Non hanno mai perso l'orientamento e alla fine siamo riusciti a portare a casa questi tre punti. Loro possono richiamare per due legni, però anche voi, soprattutto nel primo tempo, vi siete mangiati di gol pazzeschi. I punti avreste meritato di vincere, lo avete fatto in campo. Certamente. Il primo tempo sull'1-0 abbiamo avuto più di una volta l'occasione per mettere una doppia lunghezza, però un po' di imprecisione non ci siamo riusciti. Questo però in futuro dobbiamo essere più concreti perché altrimenti ci può costare caro. Dopo la sofferenza è normale sull'1-0, però siamo stati bravi a portare avanti la partita, concentrati e poi anche a chiuderla. Avete rotto il ghiaccio e adesso bisogna dare un po' di continuità ai vostri risultati. Sicuramente. La prima in casa era fondamentale vincerla, soprattutto dopo la sconfitta di sabato. Adesso ci prepariamo per questa trasferta, però la prestazione di oggi fa ben sperare per il futuro.